Il campionato nazionale di basket di Serie 1 Il campionato nazionale di Bologna La conclusione di Dalipagic Dicevo tutti stupidi, tutti meravigliati Ma le doppie di Dalipagic credo siano note conosciute Da tutti quelli che seguono il basket Dalipagic intanto continua a segnare Non c'è nulla da fare contro di lui Il campionato nazionale di Bologna Non sappiamo davvero come possa risolvere questo problema Spagna-Mazzetti, Dalipagic sta finendo Adesso più uno nuovamente per la Pietro Ma ci pensa subito Dalipagic Non riesce a fermarlo A canestro naturalmente Dalipagic Non c'era dubbio Difesa sempre molto dura di Bruna Monti Incredibile Dalipagic Ancora a canestro Ripeto, 107 a 102 70 punti di Dalipagic Grandissima Giomo Eccezionale successo Grandissimo, eccezionale Dalipagic A Fogliatoio Una partita di grandi emozioni Dalipagic, incredibile Dalipagic E' lui che ci prova Realità Incredibile Eccezionale Dalipagic 104 a 100 70 punti di Dalipagic 70 punti di Dalipagic Davvero incredibile 40 realizzati nel corso del primo tempo Le sue percentuali sono davvero straordinarie L'eccezionale Dalipagic Autore di 70 punti A 5 secondi dalla conclusione Una giomo incredibile Una giomo che continua a stupire Che oggi qui all'arsenale Campo quasi inviolabile Ha battuto anche la Dietor La squadra più in forma Del campionato italiano Stato Precedente a questo Che panna sicuramente A favore dei bolognesi 105 a 72 Il risultato finale Per Abbio davvero buono Per la formazione di Storti Dalipagic Subito tra i protagonisti Conteggio di 14 a 6 Per la Zomo Dalipagic La conclusione Contro il banco Dalipagic Dopo che la Giustra per Dalipagic La conclusione Di Praia Da lontano È vicente In un'unità quindi Dalipagic Uno dei grandi protagonisti Di questa Stagione Di questo campionato Di A1 Jugoslavi Di grande esperienza Di grande classe La conclusione Di Dalipagic E' evidente Brusa Marello Invece resista Emergente Ancora Dalipagic Comunque Che è in fila Dalla distanza Dicevo tutti stupidi Tutti meravigliati Ma le doppie Di Dalipagic Credo siano note E conosciute Da tutti quelli Che seguono il bunker E' chiaramente il campo Dalipagic Il campo continua a segnare Non c'è nulla da fare Contro di lui E' campo Non Sappiamo davvero Come possa risolvere Questo problema Il Paglia Mazzetti Dalipagic Senta fin Adesso più uno Nuovamente per la Pietro Ma ci pensa subito Dalipagic Adesso a fermarlo A canestro Naturalmente Dalipagic Non c'era dubbio Difesa sempre molto dura Di Bruna Monti Incredibile Dalipagic Ancora a canestro Ripeto 107 a 102 60 punti Dalipagic Grandissima Giomo Eccezionale Successo Grandissimo Eccezionale Dalipagic Cappogliadori Una partita di grandi Di grandi emozioni Dalipagic Incredibile Dalipagic E' lui che ci prova Realizza Incredibile Eccezionale Dalipagic 104 a 100 70 punti Di Dalipagic 70 punti Di Dalipagic Davvero Incredibile Mielic Mielic Grazie!